Ritorna Riciclail, mostra mercato di oggetti nati dal riciclo di materiale di scarto. Il ricavato verrà interamente destinato a Casa Ail, la casa di accoglienza della sezione sassarese dell'Associazione Italiana Leucemie, riservata prioritariamente ai pazienti che devono sottoporsi a trattamento presso le strutture sanitarie cittadine. La quinta edizione di Riciclail è in corso fino al 27 febbraio nella Galleria Oshan a Predanietta. Aumentiamo sempre le possibilità di dare una nuova vita agli oggetti che sarebbero da scartare, da buttare, quindi barattoli, tappi, sono tutte cose che si possono trasformare in oggetti carini che servono e quindi diciamo che per noi è anche una tutela dell'ambiente, perché se un barattolo lo butti due anni più tardi hai risparmiato l'ambiente. Poi abbiamo fatto una selezione dedicata alla biancheria della nonne, proprio per mettere qualcosa di particolare che oggi non si vede più, e poi un po' i soliti lavori che facciamo noi dell'Ail. La casa di accoglienza dell'Ail garantisce un soggiorno per chi arriva da fuori sassari e deve affrontare visite mediche o terapie in dei hospital. L'anno scorso più di 50 persone sono transitate per casa Ail, quindi è un aiuto perché sono liberi di muoversi, qui loro possono cucinare, quindi veramente è un'accoglienza particolare diciamo. E noi dobbiamo sostenerla perché i costi ci sono e invece noi chiediamo quasi niente a chi viene e quindi la sosteniamo con i nostri lavori e soprattutto col riciclo, col riciclo di tanti oggetti che andrebbero buttati, che andrebbero perduti.